Ciao, creatura. Io sono Eccati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai. E-S-M-A. Eccoci qui con il nuovo Deblian, il nuovo volantino di Lidl. Una buona Pasqua, P-A-S-Q-U-A. Pasqua per tutti. Da lunedì 6.04 a sabato 11.04. Qua è tagliato perché era uno dei primi volantini della colonna. E credo che la persona, diciamo, che ha tagliato per aprire il pacco, ha tagliato anche il volantino. Gamberi argentini interi, ideali, alla griglia o per primi piatti, 9,99 euro. Chianti di OGG riserva. È in offerta, sta a 2,99 euro. Colomba, pere, cioccolato, 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 cioccolato. Con uova da galline allevate a terra, 5,99 euro. Tra l'altro, pere, cioccolato, mi fa ridere perché uno, quando leggo la parola cioccolato, mi viene in mente Riccardo. E quando leggo pere, cioccolato, mi viene in mente Andre Mura. Per degli appinamenti che fa lui, culinari. Ovvero che si beve il succhino alla pera, però solo se in appinamento mangio una brioscina al cioccolato. Quanto ASMR la parola cioccolato. Vedi? Guarda, mi ha strappato tutto. Allora, queste cose qua della macelleria non le guardiamo neanche. Perché sono sempre le stesse. Andiamo a vedere le cose di Pasqua, della Deluxe. Se ci sono dei peli sul tavolo, cioè sulla tovaglia del suolo che copre il tavolo. Sono di Sam, quindi prenditela con lei. Ok, allora... Ah, sì, ho tolto le unghie finte. Detto ciò, possiamo andare? No, perché arriverà nei commenti. Tordelloni. Con ripieno e funghi. Oricotte e spinaci. 0,69. Pappartelli ripieni all'astice. 1,99. Culatello affettato. 1,99. Faccio la sedia che... No, che don... No, che ciclo. Spero che non si senta. Allora, qui abbiamo il salame di cinghiale a 3,99. Il prosciutto cotto. Alta qualità con tartufo. Ecco, come rovinarlo. 1,99. Strolchino al tartufo con tagliere e coltello. Tutto ti danno. 4,99. Ma c'è il tartufo, quindi niente. Presaola aromatizzata alla grappa e pino muco. 2,99. Mai assaggiata. Camembert. Stagionato. Non so leggere quello. Non lo leggo. 2,79. Formaggio fresco spalmabile in 3 diversi gusti. Qua mi sembrano delle immagini dei camperetti, dei pomodorini e qualcos'altro. E qui dei funghi. Spero non tartufo, ma dettagli. 1,29. Carpaccio di salmone con salsa vinaigrette e scaglie di parmigiano reggiano. Ma io lo voglio adesso. 2,99. Cocktail di mazzancolle tropicali. 2,49. Cheesecake stile americano. A scelta tra cheesecake con base ai biscotti classici o con base ai biscotti speziati. Speziati. 2,29. Mi sembra nuovo questo. Anche questo mi sembra nuovo. Ci sono alcune cose diverse dalla scorsa Pasqua. Se non sbaglio. Dessert limone o tiramisù. 1,99 euro. Mini craten di patate. 2,99 euro. I macaron. Va bene. 2,49 euro. Questi sono sempre. Poi il salame di cioccolato. C'è anche scritto che è una novità, ma è vero non l'avevo ancora visto. Con nocciole. Che buono. 2,49 euro. Gelato al gusto vaniglia variegato con mango o con fragole. Quello al mango è buonissimo. 3,29 euro. E c'è anche questa placchetta con scritto deluxe che al cioccolato si può mangiare. Patè di tonno, pinne gialle. Anche questo ce lo segna come novità ed è effettivamente così perché non l'avevo ancora visto. 2,39 euro. Minimo lavà di pasta sfoglia. 1,19 euro. Così te li puoi riempire come vuoi. Volendo, compri questo e compri questo e fai l'antipasto. Perché li riempi con questo patè. Lo avranno fatto apposta sicuramente. Patè e funghi porcini. 1,49 euro. Anche questo va bene. Lo fai con due gusti diversi. Torta sprisolona. Dolce di picco. Mantovano. A 2,99 euro. Qua sono i soliti prodotti deluxe selezione gambero rosso. che già abbiamo incontrato varie volte in altri video. Tagliolini al tortufo. Sai già cosa penso? Comunque 0,99. Salmone affumicato norvegese con alganori. Ecco, rovinato con l'alga. Ma non piace l'alganori. 3,49 euro. Bastardo del grappa. Formaggio della tradizione veneta. 8,49 euro. Burrata affumicata. 1,29 euro. Provolone dolce con origano in terrina di terracotta. 1,99 euro. Misto funghi con porcini e specche. 1,39 euro. Qui c'è un succo elastice a 1,49 euro. Poi souffle al cioccolato. Cioccolato, cioccolato. Con il ripino di cioccolato bianco. Wow. Lo voglio adesso. 1,99 euro. Tirami su con savoiardi a 0,79 euro. peperoncini macinati in olio extravergine di oliva. 1,49 euro. Battuto di olive leggino, 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 leggino. E con acciughe capperi, 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 capperi. 1,49 euro. Preparato per risotto carnaroli al nero di seppio. 1,49 euro. Preparato per risotto carnaroli, capperi e capperi. 1,49 euro. Questo lo vuole troppo. Buonissimo. Ok. Da lunedì 6,4. Sono cose pasquali. Anche qui. Ravioli, ricotte, pistacchio. 0,89. Gnocchi ripieni agli asparagi. Giustamente per la primavera iniziamo a trovare cose con gli asparagi. Ti piacciono agli asparagi, creatura? A me, sì. A Sam, tantissimo. Me li ruba dal piatto. 1,49 euro. Io preferisco quelli verdi. Pista, confiche, gorgonzola top, gorgonzola. Ti ricordi? Gorgonzola, gorgonzola. Non l'ho mai assaggiata e sinceramente mi fa voglia. E' della Taverna Giuseppe, cotta in forno a legno. Edizione limitata. 2,49 euro. Fette di torta alla panna con forcitura alla frutta. 6,99 euro. Fa voglia. Risotto, carnaroli, caccio, peri e pipi. Peri e pipi. Saporito e cremoso. 1,49 euro. Che voglia? Risotto, carnaroli, mascarbone, mirtilli. Eh, lo voglio. 1,49 euro. Bis frolla con crema di cioccolato alle nocciole, gianduia e con confettura di mora rossa e mirtillo nero. Wow. 1,99 euro. 1,49 euro. Confetti in diversi gusti. Vedo tutti, tranne il cocco. Quindi, voggiati. 1,79 euro. C'è stracciatella, frutti di bosco, limone, fragola, caffè, zuppa inglese e gianduia. Prenderei zuppa inglese e stracciatella. Beh, no. Troppo banale. Quelli al cocco sono i più buoni e non ci sono. Vabbè, pazienza. Allora, zuppa inglese. Poi, coniglietto di cioccolato, 99, sacchietto pasquale, vari soggetti di cioccolato al latte, 1,69 euro. Uglave. Uovo. Cive. Di cioccolato al latte. Mix di cioccolatini pasquali e cave. Credo. 1,99 euro. Stanno pure in offerta. Gallina pasquala al cioccolato. Con uvetti di cioccolato. 2,99 euro. Columba classica a 3,99 euro. La favorina è buona. Colombo classica bio a 5,99 euro e agnello pasquale a 2,19 euro. Agnelli pasquali di cioccolato con ripieni in diversi gusti a 1,79 euro. Colombo classica classata 0,99 euro. Mini colombo con gocce di cioccolato 0,99 euro. Colombo al cioccolato con fargitura e copertura di cioccolato 2,69 euro. Colombo alla crema chantilly che è buona, io adoro questa crema 2,69 euro. Ovetti di cioccolato al latte con diversi cremosi ripieni, voglio poi stizzare 1,99 euro. Ovetti di cioccolato, di cioccolato al latte, 1,19 euro. Coniglietti di cioccolato al latte, 10 coniglietti di cioccolato al latte, 1,29 euro. Cioè mi sto triggerando da sola, capisci? Allora, qui ci sono dei coniglietti di cioccolato al latte, 0,99 euro. Figure pasquali di cioccolato, cioccolato al latte in diversi soggetti, 0,69 euro. Uovo di cioccolato fondente con sorpresa, fondente, adoro, 3,11 euro. Ovetti di wafer, buoni anche questi, ricoperti di cioccolato fondente al latte, 0,99 euro. Poi, uovo di cioccolato al latte con sorpresa per bambini o bambine, 2,79 euro. E uovo di cioccolato al latte con sorpresa per bambini e bambine. Allora, questi sono 400 grammi e questi sono 220 grammi e stanno c'è un'offerta perché poche persone festeggeranno Pasqua. Cioè non si può festeggiare Pasqua in famiglia, quindi almeno ti danno le uova in saldo, per forza. Almeno una gioia nella vita. 1,69 euro. Io non lo mangerò neanche perché di solito lo prendo talando e in talando non ci posso andare, quindi niente. Ma fa niente, non succede nulla, non è che è bianco, peggio. Aperitivo. È un errore o lo scrivono così? Analcolico. 0,69, ma scusami, ma non capisco questo aperitivo un alcolico, che senso ha un perlo se è un alcolico? Come la birra alcolica, che problemi hanno? Eh, scusami, vabbè. Rustica. 1,49 euro. Petto di pollo, cotto al forno, petto di pollo, cotto al forno, petto di pollo, cotto al forno, petto di pollo, cotto al forno. Mi triggera. A 1,89 euro. Prosciutto cotto a rostra, no, prosciutto cotto. Quanti pericoli? Non ce la faccio troppi ricordi. 1,69 euro. Antipasto di salumi piacentini, cup piacentino top, salame piacentino top, pancetta piacentino top, a 1,99 euro. Salame tipo Napoli, saporito e speziato, a 1,69 euro. Eccoci qua. Snack friends, gran festa, 1,89 euro. Snack friends, stick and pretzel, oracchiti, 1,69 euro e 1,59 euro. Se sbaglio dei numeri, è perché sono sovrappensiata. Mozzarella di bufala campana top, bucconcini, questo lo mangiate buonissimo, 3,99 euro. Grana padano top, 2,79 euro. Snack di formaggio, questi fanno una voglia infinita. e non capisco, uno è classico e uno è semi di qualcosa. Giro a sole forse. Mi piace il rumore degli anelli. 1,99 euro e poi ci sono i grissini all'olio extravergine di oliva o integrali con sesamo. Mi piacciono entrambi, integrali un po' meno, mi fanno venire un po' di mal di pancia con gli integrali. Si vede che c'è qualcosa che stressa il mio intestino. 0,85 euro per gli scoli classici allora, per non aver mal di pancia. Però i semini di sesamo mi piacciono un sacco. Olive nere denocciolate a 0,79 euro. I pomodori secchi, 100% italiani, a 0,85 euro. La Fanta è un'offerta a 2,89 euro. Terre siciliane, IGT, biologico, catarratto a 2,99 euro. Poi c'è il mio brodo di carne mista, di manzo, di pollo, di manzo. Questo però ha il meno 30% di sali rispetto al brodo star di manzo e il mio brodo di verdure. 1,39 euro. Non l'ho mai provato, questo ho già fatto. Minestra o crema? Minestra primavera, crema ai porcini o crema agli asparagi, 0,95 euro. Avevo provato quelle ai funghi, è buonissima, crema ai porcini è buonissima. Anche patate e porcini, ma adesso io preferisco farmene in casa, le creme e anche le minestre, le creme e le minestre. E sono molto più buone perché ci metto quello che voglio. Vitello tonnato, 2,29 euro. Lasagne alla bolognese con carne di suino e bovino, 2,99 euro. Sofficini prosciutto cotto in mozzarella o pomodoro in mozzarella, 2,29 euro. Tonno al naturale, 0, senza grassi, 1,99 euro. Frutti di mare, preparato per risotto e spaghetti, insalata di mare o cozze cilene scusciate, a 1,59 euro. Il nostro adorato corconsola, corconsola top, piccante, però a me piace di più quello dolce, 1,59 euro. Questa marca qua è buonissima, quella italiana. Montasio top, 1,99 euro. Mista sottile, prodotto fresco, pronto da condire, a 0,75 euro. Mini baby bell, che non sanno da niente, plastica pura, 1,39 euro. Come te lo pubblici, so io bene il baby bell. È plastica pura. È vero, non sanno da niente alla fine. Come il calpanino, il calpanino e il baby bell, non sanno da niente, plastica pura. È gomma. Se lo pensi anche tu, dimmelo. Se pensi in modo diverso, commenta pure. Birra, a 1,95 euro. Olio extravergine d'oliva, italiano, 3,89 euro. Il ketchup, questo qui. Queste qui sono le marche migliori. La mia marca preferita, questa Lines, della salsa barbecue. La non si trova quasi mai a Lidl. Da Aldi la trovavo, di questa marca. 0,99 euro. Però adesso non si può girare in tutti i supermercati. Quindi vado solo a Lidl e prendo quello che trovo a Lidl. E abbiamo il ketchup a 0,99 euro. E la maionese a 1,49 euro. Patatine fritte, a 0,85 euro. Che andrei pro fritte. Ma io queste le compro, poi le faccio al forno. Sono buone lo stesso. Optimum succo in bricche, a 1,49 euro. A me quello alla pera non piace. Perché ha una consistenza brutta. Tu cosa ne pensi, creatura? Però fammelo sapere nei commenti. Il più buono è tutti a Lace, comunque. Non c'è storia, non c'è paragone. Non c'è proprio storia. Poi abbiamo Joe Bar preparato per cioccolata calda. Classico, bianco, fondente. Io non ho mai bevuto la cioccolata calda bianca o fondente. Deve essere, oh my god. 1,29 euro. L'hotella a 5,49 euro. Che offertona. Vabbè, savo gli arti a 0,85 euro. Mascarpone. Perché così potete fare i dolci. Ve li mettono tutti in offerta, così andate a prendere tutte le vostre cose in offerta. Mascarpone a 0,95 euro. Fiorentine di pasta sfoglia. Credo che non siano ripiene, se non l'avrebbero scritto. 1,49 euro. Il ringo, la vaniglia, 0,79 euro. I pan di stelle, cereali pan di stelle, wow. 1,99 euro. Il buon di Motta. Edizione limitata. Perché edizione limitata? Cacao e crema pasticcera. Mamma mia, fa veramente voglia. 1,59 euro. Poi quando scrivo no edizione limitata mi fa ancora più voglia. Mi riesco a farmi fregare dai grafici da me stessa. Poi, caffè espresso bar, 1,11 euro e etichetta nera, brandy invecchiato, a 0,99 euro. Il gelato al voglio, tipo adesso, 3,99 euro. Giustamente il digestivo e effervescente, a 2,89 euro. Poi c'è il gel per lavastoviglie, che non ce l'ho, ma va bene, 2,79 euro. E la pellicola di alluminio, il foglio di alluminio, a 1,49 euro. Poi qua, dice, meno plastica. Un gesto concreto per aiutare l'ambiente. Ecco cosa abbiamo già fatto. Hanno fatto i nostri piatti, i bicchieri sono biodegradabili e compostabili. Dalla natura alla natura, poi stessa potenza, formato ridotto, prodotto concentrato e meno uso di plastica per la confezione. Meno 12% di plastica. Abbiamo ridotto la quantità di plastica dalle confezioni, ma non la quantità del prodotto. Giustamente. Poi qua c'è meno 17% di plastica. Abbiamo ridotto il peso della plastica, degli involucri interni, delle brioche. Effettivamente queste fanno un sacco di plastica perché c'è sia la confezione esterna e ogni brioche impacchettata singolarmente con un pacchettino di plastica. E qua invece l'hanno tolta del tutto, zero plastica. Abbiamo eliminato la plastica dalle confezioni delle uova perché sono tipo di carta, credo sia una specie di cartone. E l'etichetta è fatta di carta. Quindi l'hanno tolto. Bravi, bravi. Complimenti. Poi qua fanno vedere che su tutte le uova Kinder e Ferrero c'è il 50% di sconto sul secondo pezzo della stessa grammatura. Vabbè. Quindi devi comprarne due per avere uno sconto sul secondo. Grande uguale a quello che avevi preso, sì, bisogna specificare giustamente. Poi qua dice gusto e benessere. E qui abbiamo la pagina che non ci interessa molto, però guardiamo la stessa. Tutte le cose veg, vegetariane o vegane. Sì, vegetariane o vegane. Vegetariane, diciamo. Sì. C'è il burger di soia con asparagi e con pomodoro e olive. Favoglia. A me fa voglia tutto perché sono un nivola. Cotoletta vegetariana con spinaci. Gusto green. Che cos'è? Minestroni di faccioli. Cannellini. Con cubetti di seitan. O zuppa con ceci. Io la zuppa con ceci me la faccio, però senza il tofu. Quella roba lì. È vegan direttamente. No? Vabbè. Comunque non ci metto il tofu o il seitan che sembra satano. Del nome. Seitan. Oh no, mi segnaleranno il video. Vabbè. Nuggets vegetariani. Desserti soia. Valsoia. Il gelato valsoia. Non lo so. Non sono molto convinta. Però qua ci sono delle tisane. dell'angelica. Io dovrei avere neanche una di queste come possibile. Io qui ho il diglio che qui non c'è. Che è sconfiante, digestivo, sonno e relax. Questa non riesco a leggerle. Poi qua mettono degli sciampi BHP o plus. Balsamo. Detergente per il viso, sapone liquido, bagno schiuma, crema mani, crema viso e crema corpo. Non conosco questa marca quindi non so dirti se è buona. Una primavera in cucina. Perché non si può uscire. Quindi giustamente ci dicono così. E c'è un pollitore elettrico, una piastra da induzione, un frullatore e una tostiera. Qua invece c'è un microonde e dei vari sbattitori multimix. Poi sempre per la cucina, teglia da forno, mini macchina, sigilla a sacchetti. Questa mi ispira però. Però ci vogliono... Adatta per buste e sacchetti di plastica. Ci vorranno le buste apposite o no? Con lama integrata per aprire le buste sigillate, batterie inclusi. Questa mi ispira molto. Questa la prenderei. Poi bilancia, caraffa, graduata. Bella anche questa. Fa due in uno, praticamente. Miscelatore con boccetta estraibile. Bella anche questa. Però sul mio non ci starebbe. Sulla mia cucina. Poi c'è indispensabile per un'officina organizzata. Ma anche no. No, non ci interessa. Tanto so già che non ci interessa creatore. Quindi non guardo neanche. Anche se questa borsa con attrezzi da lavoro è molto cool. Guarda. Eh? Cosa ne dici? Ma ci sono anche gli attrezzi dentro? O solo borsa? Che dice con attrezzi da lavoro. Ventitré pezzi. Cavolo. Bella. Mi piace. No, perché tra un po' mio padre compie gli anni. Lui compie gli anni un giorno prima del mio. E quindi già stavo guardando che regalo fatti. E siamo arrivati al termine. Super weekend offerte valide da venerdì 10.04. La sabato 11.04. Prosciutto di San Daniele Top a 1,79 euro. Formaggio crattugiato italiano a 0,75 euro. E poi c'è la coca-cola a 2,39 euro. E poi c'è la coca-cola a 2,39 euro. Le buoni da 50 euro aiutaci a migliorare il tuo punto vendita. La tua opinione conta. Ricorda di tenere lo scontrino. Allora, www.lidl.it la tua opinione. Cosa ne pensi di Lidl? Cosa ti ha colpito dei prodotti, dell'esperienza di acquisto del servizio? Quali suggerimenti hai per rendere Lidl più accattivante? Vorremmo conoscere la tua opinione. Solo così avremo modo di migliorarci sempre di più. Fai la tua spesa e partecipa al sondaggio online. Potrai vincere fantastici premi. Concorso valido dal 30 settembre 2019 al 13 settembre 2020. Montepremi totale 50.000 euro IVA esente in palio ad estrazione 20 buoni spesa Lidl da 50 euro a settimana per il regolamento completo comprensivo di privacy su www.lidl.it Conserva lo scontrino che ti verrà richiesto in caso di vincita. Assistenza clienti. Ok. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Ma suona male però. Secondo me è ambiguo. Perché tipo io entro e alla cassa c'è scritto cambio supermercato. Ma sembra che ti vogliamo andare via. Secondo me non è un buon slogan questo. Sinceramente. Perché può essere frainteso. Ok. Io preferivo quello vecchio, quello che c'era il pugno che batteva sulla mano e diceva Lidl, conviene, una roba del genere, non so se ti ricordi. Comunque se volete andare a scrivere che io faccio i video ASMR con i loro Deppian, così magari, non lo so, niente, perché non mi si caga. Vabbè non importa, intanto io li faccio lo stesso, non lo faccio perché per i soldi. L'avrei fatto comunque. Allora, qualcuno mi aveva chiesto di leggere il volantino dell'Eurospin. Lo farei se qui ci fosse, il problema è che posso fare Deppian, cioè posso fare, sfogliamo insieme il volantino di solo dei negozi che ho qui in zona, dato che comunque uno non si può uscire, giustamente, e se si va a fare la spesa, si va in un posto solo, non è che si può andare in giro in tutti i negozi. E dato che non ci arrivo più a casa nessun volantino, sono riuscito a prendere questo, perché ogni due settimane esco per fare la spesa e cerco di uscire il meno possibile, quindi duro due settimane. E poi mio padre finisce sempre l'acqua, l'acqua sta da bere, quindi cose così. E quindi, niente, sono riuscita ad accaparrarmi questo volantino. E se riesco a accaparrarmi dei altri giornali, altri volantini, ben volentieri, ok? Volevo solo chiarire questa cosa. E niente, prossimamente magari vi farò qualche lettura di qualche libro di quelli nostri che abbiamo iniziato. In più ti dico, creatura, se sei ancora sveglia, nell'info box di questo video ti lascio un link gratuito dove puoi scaricare un audio che ho realizzato io per le persone che si annoiano, sono in ansia adesso, una quarantina, eccetera, eccetera. E' oggi un'ora e mezza circa. E leggo in modo rilassante un libro che ti spiega come smettere di preoccuparti. Puoi crederci o non crederci, potrà servirti o meno, ma magari anche solo per ascoltare qualcosa, avere un mio audio gratuito, lungo, insomma, che puoi ascoltarti prima di dormire o, non lo so, per passare in tempo, finché disegno, quello che vuoi, chiunque è libero, vi lascio il link nell'info box, potete scaricarlo e, insomma, se riesco ne farò altri, magari leggendo altri libri. Quello libro, perché ho letto tutto un libro, vabbè, vedremo, magari scrivetemi su Instagram, faccio quello che posso e vi auguro una buona serata. Una buona settimana, noi ci vediamo giovedì con un nuovo video e nel weekend sempre con la nostra serie preferita, decisioni, che sta per terminare. Ma non preoccuparti, creatura, perché ne faremo un'altra. Inizieremo un'altra appena quella finisce. Grazie per sostenermi, lasciami un mi piace e condividi i miei video. Spero che arriveremo presto agli 11.000. Insomma, mi farebbe piacere. E niente, buona serata, buonanotte. Ciao, creatura. Ciao, amaching, Dimitri. Ciao. Ciao, am refreshing.